Buongiorno Natia, buongiorno a tutti. A tutti, 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 nessuno escludo. No, no, nessuno. Adesso ti faccio una domanda che non ho scritto ma mi è frullata così, è una domanda personale. Ah ciao, allora vado. So che sei vegetariano, come sei arrivato a questa scelta e perché hai deciso di diventare vegetariano? Ci sono arrivato nel 1988, ci avevo provato anche prima ma mi era andata male, stavo malissimo con la frutta e la verdura perché non c'ero abituato, ho dovuto piantarla lì e poi sono ripartito nel 1988. Come ci sono arrivato? Allora non sono un vegetariano d'assalto, non è che io sono vegetariano, tutti gli altri sono carnivori, sono cattivi, avevo papà pescatore e cacciatore, figurati, era una bravissima persona, adorabile, per cui non posso generalizzare e creare degli assolutismi. È chiaro che gli animali vengono custoditi nei lager oggi in grande maggioranza, per cui ci sono arrivato per compassione, non tanto per motivi di salute, anzi ti sto dicendo che quando ho cominciato stavo malissimo, però piano piano ho abituato il fisico a diventare vegetariano e così sono diventato. Ecco, sai se la bistecca di cavallo mi venisse data dopo che un cavallo ha vissuto liberamente pascolando per anni e anni e anni, poi è arrivato a un certo punto della sua vita, va bene, ora che lo facciano fuori, sarebbe già più tollerabile, visto che l'uomo è nato cacciatore, però in questa maniera trovo che sia intollerabile, insomma, gli animali fanno una vita veramente da nazismo puro e violento e aggressivo, per cui non mi sento di collaborare, mi astengo per quel che posso pur sapendo che bene o male anch'io in qualche maniera uccido creature su questa terra, basta andare in macchina, far falline e cose di questo tipo, anche per creare una piantagione di verdure, qualcosa di botanico devi scavare la terra, far fuori le marmottine, buttar giù gli alberi, i passerottini, quindi la vita si nutre della vita, non mi illudo. Però ecco, c'è un detto tibetano che dice se proprio non riesci a far del bene cerca di fare il meno male possibile e io sto cercando di fare questo. Grazie, ascolta, mi è venuta in mente una cosa perché a me, io non sono vegetariana, ma i cuccioli per esempio non riesco a mangiarli, quindi l'agnello, il capretto, il cavallo e lo paragono al cane, quindi e spesso mi viene rimproverata questa cosa perché mi dicono ah certo, il capretto no e la mucca sì, l'agnello no e il maiale, il prosciutto sì, come posso io, mi trovo in imbarazzo perché so che fondamentalmente hanno ragione, però è un po' come se mi sentissi di imitare i danni, non so come spiegarlo, il polipo so che è intelligentissimo, non riesco a mangiarlo da quando l'ho scoperto e uno mi dice allora mangi il pranzino perché è più tonto, poverino, forse sì, cosa posso rispondere a chi mi dice così? Ma puoi rispondere con una battuta di Nietzsche, la morale ha standard estetici, se ammazzi uno scarafaggio sei un eroe, se ammazzi una farfalla sei un disgraziato. Hai ragione, hai ragione. Da sempre, se ci fai caso, i belli hanno più fortuna dei brutti per esempio, è stato riscontrato che anche nelle scuole i bambini belli vengono puniti di meno rispetto ai bambini bruttini, se devi fare un colloquio di lavoro e sei bello a parità di condizioni e a volte anche con condizioni inferiori, ti scelgono perché quello che è venuto dopo di te è bruttino e anche se è bravo lo lasciano fuori perché occorre bella presenza, gli algoritmi per la scelta dei dipendenti vengono preparati anche con queste caratteristiche di bella presenza eccetera eccetera che ci vogliamo fare e scivola anche nel regno animale questa cosa, non sempre, non sempre, per te però in questo caso ti puoi difendere, è una questione biologica naturale, accade in ogni settore e accade anche nel mio piatto dove mangio. E invece cosa mi dici degli estremismi, quelli dai crudisti a arrivare quelli che invece non tollerano di mangiare anche un piatto vegetariano se è stato cucinato nella stessa pentola dove precedentemente è stato cotto della carne per esempio. Beh questo è un problema particolare, premetto, a me vanno bene tutti perché ognuno si sceglie l'alimentazione che desidera però non tutti conoscono determinate patologie, ne cito una che è l'ortoressia, è proprio quelle persone che si preoccupano eccessivamente dello stato di salute per cui se scoprono che andando a casa di un amico quello gli ha cucinato la verdura in una pentola nella quale dieci anni prima era stato cucinato un pezzetto di... una bracciola, una bistecca, alla fine del mondo. Si preoccupano, si preoccupano molto perché sono convinti che questo faccia malissimo alla salute per cui stanno attentissimi ma in maniera ossessiva, sono delle vere e proprie ossessioni. Ci sono tante ossessioni nel campo psichiatrico e questa è una delle tante e viene chiamata ortoressia. Ecco, io ho conosciuto una persona che al di fuori dell'ortoressia per esempio era convinta che se andava in un supermercato e pagava la spesa e se mentre pagava la spesa sentiva la cassiera parlare e raccontare della sua amica che aveva avuto il cancro, bene, ricevendo il resto lei lo doveva spendere subito perché altrimenti sarebbe venuto il cancro anche lei. Esistono delle vere e proprie ossessioni. Quando il pensiero diventa fisso è sempre un grande problema e potrei concludere con un'analogia. Allora, quando l'acqua scorre dai monti e arriva fino a valle scorrendo, generalmente è fresca, pulita, zampillante, però la stessa acqua fresca, pulita, zampillante. Prova a farci una buca e a metterla dentro e lasciarla lì ferma per un lungo periodo di tempo. Cosa diventa? Fango. Una pozzanghera piena di germi, batteri, eccetera, eccetera. Così è la mente. Se la mente vive di continui e creativi pensieri, è fresca, zampillante, limpida, ma crea un buco e facci un pensiero unico, fisso, dove pensi sempre a quello, solo a quello, ossessivamente, come diventa la tua mente? Una pozzanghera. Una pozzanghera. Ecco. Meditate, gente, meditate. Condividete. Alla prossima, se vi va. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.